Ciao, mi chiamo Melissa, ho 11 anni e vengo dall'Istituto di Montecorino Pugliano. Io invece mi chiamo Giovanni e provengo anch'io dall'Istituto Compensivo Montecorino Pugliano e ho 11 anni. Beh, a quanto pare abbiamo vinto, non una cosa qualsiasi, cioè abbiamo vinto un concorso per la giuria del Film Festival che ci sarà a luglio. Beh, un'occasione così non è che capiti tutti i giorni, è una cosa unica. Ciao a tutti, io sono Chiara Fungaroli e vengo dall'Istituto Comprensivo Francesco De Santis. Oggi abbiamo visto il film My Revolution. Questo film è stato per me veramente bellissimo e trattava gli argomenti molto vicini a noi, essendo tutti adolescenti, ma soprattutto è un film che parlava della storia di un ragazzo, della sua personale rivoluzione, perché noi crescendo appunto cambiamo, ci riscontriamo con aspetti positivi e negativi della vita, quali le droghe, anche il bullismo, ma ci riscontriamo anche con l'amore, con l'innamoramento. Quindi questo film, io l'ho trovato un film completo, che ha aperto molto il dibattito in sala, che è una cosa che secondo me è molto importante. Io essendo vicino al cinema, la mia famiglia è molto vicina al cinema e al teatro, è stata veramente una bella esperienza. Ciao, io sono Marta, oggi a Movie Days ho avuto la possibilità di partecipare alla giuria e sono un tipo contentissima. L'esperienza di Giffoni per me sarebbe qualcosa di straordinario, intanto sono un tipo abbastanza trasgressivo, che vuole per forza dire le sue opinioni e questo sarebbe un buon momento di dialogo e di stare insieme. Inoltre sono una grande appassionata di cinema e sarei veramente felicissima.